Si capisce la soddisfazione degli organizzatori perché gli è caduta addosso questa manifestazione e devo dire che hanno fatto grandi cose, aiuto del Comune, tutti sono impegnati, purtroppo la Cama di Commercio ci ha fatto il trucchetto, questo da Catania, queste cose non ce le aspettavamo e devo dire che il mago Agen, come lo chiamo io, poteva pensare in qualche modo alla fiera agricola prima di andarsene, di dimettersi, avrebbe potuto farlo perché c'erano i tempi e si poteva fare. Grande successo naturalmente, come sempre, dei nostri prodotti, nei prossimi giorni avremo in studio l'amico Enzo Cavallo che ci parlerà del ragusano DOP che sta avendo un grande successo, ne parleremo penso giovedì. La ragusa Catania, la ragusa Catania è un effettivamente, è stato confermato che le ditte hanno partecipato a questo bando, quindi i quattro lotti hanno trovato le ditte pronte a investire. I prezzi sono stati rivisti, se non ci sono altri problemi, se non accadono cose chissà che, in pratica entro dicembre dovremmo concludere tutto l'iter per assegnare, consegnare i lavori, prima assegnare, poi consegnare e si dice, dicono che a metà dell'anno prossimo potrebbero iniziare i lavori. Sapete che ci vorranno tre, quattro anni e questo è il problema della nostra Sicilia, ma anche della nostra Italia. Magari in altri paesi, se fossimo in Giappone, un'autostrada di 60 km la farebbero in un anno. Noi, vabbè, se ci va bene, quattro anni, quattro anni e mezzo. Non parliamo per favore di ponte e purtroppo non possiamo parlare neanche di ferrovie, perché le hanno presi i soldi per le ferrovie. Ma a Dio avessero detto, ma guarda su Ragusa ci mettiamo qualcosa su Siracusa? No, tutto sul Palermo, Catania, Messina, è normale, noi siamo figli di un dio minore, come c'è il famoso film. Però a proposito di ferrovie, allora vi voglio far vedere questo servizio che ci porta nell'ambito del riciclo. Allora voi sapete dove si buttano le scatolette di tonno, dove si butta tutto questo alluminio? Allora se non lo sapete ve lo facciamo dire in questo servizio, perché oggi c'è stata una manifestazione che era già iniziata, devo dire domenica, con questo protagonista che è l'uomo Capitano Acciaio. Capitano Acciaio per i bambini, tutte queste cose, in pratica abbiamo scoperto che tutte queste cose che voi vedete si possono riciclare all'infinito. Quindi se voi buttate nel posto giusto le lattine, quelle dell'aerosol, i tappi corona, tutte queste cose, in pratica tutto questo viene riusato e pensate che con tutto quello che si fa in un anno di riciclaggio si potrebbero addirittura realizzare 3.600 chilometri di binario per le ferrovie. E che vi pare una cosa da poco. Allora noi abbiamo realizzato queste interviste durante la giornata di oggi che c'è stata appunto la preparazione, sentiamo i responsabili del consorzio, un produttore, o meglio uno che fa il riciclaggio e poi Capitano Acciaio. Vediamo.